Insomma, tutto parla del Natale e poi c'è... ...per cambiare, ciò, ci mettiamo più sui mesi con questo... ...e poi un applauso, insomma, vogliamo partecipare con lo spirito almeno, tutti quelli che non partecipano alla camminata e un bel applauso a questi babbi Natali che si avvicinano alla Lint, è un'iniziativa davvero importante Allora, ricordiamo anche i gruppi che partecipano... ...ciao, ciao... ...allora, che spettacolo vedere tutti questi babbi Natali che invadono pacificamente la città Ciao, anche gli amici di Stella Bianca, allora, Garavelli, ci siamo proprio tutti parla dottoressa Paola Reverso con i suoi bambini parleremo anche dell'iniziativa dell'importanza dell'educazione alimentare soprattutto per quanto riguarda i più piccoli, importante per la prevenzione Allora partecipano a questa passaggiata col babbi Natali gruppo Amici Luigi, gruppo Solveso Lexis, gruppo Kai Valenza, gruppo Lance Moras, gruppo Stai... ...di segno, un bel applauso a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti.